Buonasera signorina. Buonasera. La immagino con vestito stretto. È sirina, sì. Lei è più per le cose strettissime, scollatissime, che si vedono le forme. La prima proposta è un modello d'avanguardia. Questa è una proposta nuova, con i pantaloni, gonnellone staccabile. È un pantalone, con una gonnellone sopra. Che ne pensi? No, Anna. A me piace. Che cosa che non piace? Il pantalone sotto. A me proprio come stai. Il pantalone sotto, il colpetto, è troppo brutto. Il Montesmire. Cambiamo, Giudice. Siamo lontani dai tuoi obiettivi. Lontanissimi. Li raggiungeremo. Il cappello non è per me. Mi piace solo il velo classico madonnina, un velo con la visiera davanti. Non lo so, da provare. Siamo pronte. Voilà. Questa è una bella sirena in pizzo chantillyé, con fondo nude, manica, scollo merale. Il colore nude e lo scollo merale saranno la soluzione più giusta per realizzare i desideri della sposa? Ci siamo quasi avvicinato al mio prototipo. Il corpetto va bene, ma il colore... No, no, ma adesso è bianco, mi piace bianco. Il corso nude sotto, non mi piace proprio. Effetto nude, non ti piace? No. No? Non mi piace il colore perché mi piace il bianco. Non mi piace proprio. Il colpetto sopra mi piaceva. L'unica cosa c'è di questo vestito è che mi piace l'effetto della sirena. Troppo semplice. Ci siamo avvicinati. Ok, allora riproviamo ancora. Alla prossima mi aspetto un vestito bianco, a sirena, scollato. Beh, come piace a lei. Anna, sono 23 anni, è già mamma e ora sta finalmente per diventare moglie. Allora, abbiamo trovato una bella sirena in crepe di seta con pizza chantilly e arricchita con perle cristalli. E' un bellissimo velo, madonnale. Questo vestito ha tutto, il velo da madonna come piace a me. Bianco è il merletto che io adoro. E' bianco, scollato, sirena, è come volessi. Prende, quando la chiesa ci faccia sì. Troviamo qualcosa per coprire? Dobbiamo coprire un po', un po' troppo sé. Possiamo mettere qualcosa così, lo stesso pizzo del velo, dell'abito. Lo applichiamo qui, giusto al punto critico. O lo facciamo all'applicazione fissa, no? Finta, solo per la chiesa. Solo per l'entrata in chiesa, allora con delle piccole ciappettine invisibili. E poi dopo la chiesa, via. Una sirena stupenda. Ho pensato questo, è lui. Lo senti, lo senti da dentro. Ho provato un voto nello stomaco. Ho provato un voto nello stomaco.